Certe zone in realtà hanno già chiuso, nelle zone rosse certamente ma anche nelle zone gialle E che dire, questa è una delle decisioni che divide, anche in redazione siamo spaccati Il mio direttore la pensa, Belpietro la pensa in un modo, io la penso in un altro per esempio Per me è una misura eccessiva, lui dice che è giusto farla Non lo sappiamo, anche queste sono cose che vedremo col tempo L'impatto è devastante, il piccolo spicchio che avete fatto vedere, dovete moltiplicarlo per tutta l'Italia È veramente un grossissimo problema No però diciamo un inizio del fatto che si possa prorogare Vagamenti di aiuti, ma gli aiuti cosa vogliono dire? Ho sentito parlare di voucher, perché il congetto parentale onestamente, la gente lavora anche Almeno io spero che continui a lavorare, perché se smettiamo di vivere per la paura di morire, anzi di ammalarci forse E diventa una pazzia, è chiaro che se uno ha un lavoro cerca di tenerselo in questi tempi poi E quindi il problema del concedo parentale diventa anche strano Perché se tu lavori e hai un'azienda, c'è qualcuno che ti dà da lavorare, ha bisogno di te per fare determinante cose Tu te ne rimani a casa Ma non c'è dubbio che sia un problema, su questo non c'è dubbio Di nuovo il tema è bilanciare il danno La soluzione può essere solo voucher, come si era ipotizzato Però vuol dire dare soldi in mano alle famiglie perché prendono la babysitter Sì, ma tra l'altro io dicevo un indizio del fatto che plausibilmente le scuole non resteranno chiuse dieci giorni Ma un tempo decisamente più lungo Sta anche nel fatto che il governo ha detto che forse questi provvedimenti adesso saranno nel decreto che mercoledì dovrebbe passare alle camere E quello anche perché il comitato scientifico gli aveva detto che chiuderle per dieci giorni non serve a niente O si chiude per un periodo prolungato oppure non serve a niente No, ma poi ti chiedi se questi voucher devono servire a pagare le babysitter Comunque in questo ok lo dai la prossima settimana In questo però torniamo alla scuola Ma la scuola non funziona In questo però appunto torniamo alla questione In Germania sono aperte